Con l'analisi di Cingolani? Non solo sono d'accordo, ma io, siccome non faccio il ministro, posso essere ancora più esplicito. Io mi dissocio dalla venerazione nei confronti di Greta Thunberg, perché mi preoccupa lo spettacolo degli adulti che si genuflettono davanti agli adolescenti. Gli adolescenti fanno il loro mestiere, fanno benissimo a cavalcare le utopie e anche a gridarci delle provocazioni, però gli adulti devono governare il mondo. Ci sono degli adulti che in quel vertice sono andati in rappresentanza di un miliarde e mezzo di cinesi, un miliarde e mezzo di indiani, i quali non possono dall'oggi all'indomani rinunciare al carbone. L'alternativa è chiudere le fabbriche, è gettare centinaia milioni di persone sull'astrico. Si muore di fame prima ancora di morire di inquinamento, si può morire ancora di fame oggi. Ma quando si dice che l'India e la Cina hanno fregato l'Occidente, si dice una cosa vera o no? All'ultimo miglio, diciamo. No, no, il caso che conosco meglio è la Cina, poi posso anche dire due cose sull'India, ma la Cina ci crede alla transizione sostenibile, ci crede alla lotta contro il cambiamento climatico. Tant'è vero, è già riuscita a diventare numero uno mondiale nei pannelli solari, è già riuscita a conquistare una posizione pressoché dominante nell'eolico, nell'auto elettrica, vuole diventare padrona delle batterie elettriche, dei metalli rari con cui le produciamo. Ha un progetto molto chiaro. Questo è un problema però, eh? È un problema per noi, perché poi diventeremo... Però dici tu, per l'ambiente è già una direzione presa abbastanza chiara.